Bello ragazzi e bentornati qui in questo mio nuovo video estivo ragazzi Oggi è tipo 16 agosto, state tutti in vacanza Nessuno che sta a casa, nessuno che vedrà questo video, però Dato che è appunto agosto, ieri e l'altro ieri non avete visto video Perché era ferragosto, era la vigilia di ferragosto Non so se abbia un nome, però ho evitato di mettervi delle cose Abbiamo messo giusto The Dead and Breakfast per non lasciarvi senza video Oggi siamo tornati con un bel gameplay Oggi siamo tornati con un bel gameplay Dato che me lo chiedete tutti, dato che tutti mi dite Non fai più gameplay, non fai più gameplay Io vi ho sempre detto, non ci sono i giochi Giochi che ci sono fanno cagare Fortnite fa cagare Fortnite, fai schifo Fortnite Non è un fa schifo, è una merda È una merda, fa schifo Dato che quindi l'Activision ci ha fatto il regalo estivo di darci la beta di Black Ops 4 L'altra volta io vi ringrazio tantissimo ragazzi che siamo arrivati a 35.000 like Quindi appena uscirà il gioco vi farò la sfida di Thread Volevo farla sulla beta ma è impossibile ragazzi Sia perché fa caldo sia perché è agosto, è difficile Appena uscirà il gioco me la farò Oggi vi chiedo di arrivare a 25.000 like Perché sono insieme a Deluxe, Junk e il magico Just Ron In una partita secondo me molto carina Non ho parlato molto in realtà in questo video perché ero concentrato, ero un gabbo mod Quindi va bene, accettatemi per quello che sono Però ragazzi ho fomentato, sono felice perché è COD Mi diverto a giocacci, mi diverto a giocacci in gruppo È divertente, è COD ragazzi, è COD È proprio Call of Duty, cioè nel senso Poi non so a voi quanto possa piacere Fatemelo sapere comunque nei commenti Fatemi sapere se volete altri video Arriviamo a 25.000 like e appena uscirà Vi porterò contenuti settimanali Call of Duty, non è vero perché è finita la beta Però fatemi sapere sotto nei commenti se l'avete provata Se ci avete giocato e soprattutto Con chi volete dei video su COD Perché no? Possono tornare molte serie, come ho detto Può tornare la sfida di Dread Può tornare io che gioco la Grand Può tornare un botto di roba, capito? Spero che abbiate passato un buon ferragosto E ci sentiamo nell'outro perché non l'ho fatta nel video Il più grande Homer abbiamo contro L'effetto di Ben E Messi E Messi che vabbè E Messi comunque 5 contro 4 Nice game Easy Porca madosca Forze speciali dai Basta Ciacchino ma uso le armi Gli rompo il culo, vaffanculo Così ti voglio, cazzo, aggressivo Bravo, bravo Cazzo, mi ho preso il Maddox involontariamente Entro sulla base da fenomeno? Beh, però non è che mi posso lamentare di starma Per il momento Dietro, back, 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 back Oggio che sei Eh, sì, sei bianco Fra? Ah, ma sono in 4 Vabbè Eh, non si vedono, non si trovano Non esistono Eh, lo sapevo, ero troppo low con la vita Per challengerlo Dove cazzo siete, amici miei? Oh, il Seeker è veramente comunque un figlio di puttana Cioè, se lancio il drone di merda Devi andare diretto dal nemico Non devi farti i giri della Madonna Stupido coglione I giretti Venga, i giretti Eh, sono dall'altra parte della mappa forse, ma Oddio, quello che è volato ora Porco Quello lì è Ron No, ragazzi Quello è Ron Ron col cazzo di Ruin No, vabbè, regà, però non muoio Non insultatemi il Ruin, per favore Non muoio Non è che dici Fra, ma che cazzo ci fa qua? È lenta Mi dà la kill dopo per prendermi in giro il gioco Fermi lì Continua a giocare con... Ah, non capi uno spuno No, ora sì, forse No, no No, non è vero Ci sono spunato io adesso Sono ancora tutti lì Correreee Lo danone che cosa vuole Fra, muori Sono batti No Ma guarda, me l'hai fottuto, Dredd Maledetto Te l'ho fottuto? Sì Vabbè, l'avevo stata one shot io Tanto me l'ha contata No, hanno cambiato Invece? 1 e 1 shot, ok, morto Questo è troppo lento come cambio Vita, Gianco, vita, Gianco Tutti di qua, raga No, l'ultimo! Mannaggia! Ultimo! Eh, ce l'ho provato, ma ero low 1 e 1 shot, morto No, veramente? Veramente questo gioco lo sta facendo? Mi ha mandato la mina seeker sul dirupo dove non c'è spazio Raga, ho finito i colpi Porca puttana Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o Adesso me li dai punti Ragazzi, è successo un macerano Ragazzi, ma veramente Arriva da sotto Arrivano in due, raga Help, 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 help C'è ancora uno, no Finiti Fammi tirare sto cazzo di attacco fulminante Sando a fare un giro strano No, lo sapevo, lo sapevo Oddio, spacco tutto Ma dove cazzo sono? Dove? Mi hai fatto sprecare un airstorm, merda Via dal cazzo Ma veramente dentro l'aereo, la carlinga dell'aereo Ma no, dammi la gianna Raga, basta, veste mia da caso Gianco, quello là è 1 shotissimo Morto, morto Mille Morti Bravo, dread Ah, mi aspettavo fuori Oh mio Dio Avevo fritti tutti quelli No, raga, non muore Bene, 23-5 Il momento di fare 50 kill Cercare di uccidere il tiro È proprio il momento Ops È quel momento Quell'esatto momento Veramente? Raga, ho là dietro che sicuro Ok, perfetto Spiegami come mai uccidere Le granate Meritevole Mi son suicidato Grande Non ho parole Ma c'ha lo scudo, ragazzi Lo scudo invisibile Aveva lo scudo invisibile, regà Non si vedeva È che mentre lo mette Anche se non c'è C'è l'ipote dello scudo Quindi tu sparai allo scudo Anche se non esiste È flippato, penso No, non è vero No, non è vero Sono ancora qua La stai facendo seriamente Ok, spiegami come cazzo È arrivato lui da qua Io non spacco nulla Perché non mi vale la pelle Come ha fatto a arrivare da lì Non c'è un cazzo Di nessuno Ma vengono in prefire, raga Se non sbagliano a sparare Io sì, c'ho l'elicottero Granata Niente, raga No Dico fuoco a tutti Gli hai inceneriti tutti A tutti Vai te lo Hai vero Anche le piastrine Arriva da dietro Arriva da dietro Sto rincoglionito Ma vogliamo finirla? Meno che Dread Non sia in feed Ma io in realtà Questa qua me la tengo Allora Ti dirò Ma che todiga fa Ma che todiga fa 38-4 Dread Che fai? Non la tieni E la voglia che la tengo questa È già online Sì Swap spawn Swap spawn Che poi spawn swap Niente Nasco dietro di lì Che Che Raga dietro Madonna l'ho aperto Si è fatto male Ha pianto? Ha pianto Andato dalla mamma Oh Oh Fra Mi spaventano ragazzi Ma veramente Ma che corse fanno Backdoors Che amico Guarda guarda Titi backbang Bastardo Va bene Me la tengo 28-11 43-6 Easy G G Spenti brutti Proprio questi G-ron G-ron Proprio lui Ah adesso l'ho fatta Questo Eh mica tanto Allontani un po' Lo spazio Toglie poco No ma davvero Media distanza Non è il massimo Spero che il video vi sia piaciuto Ricordate di lasciare un bel like Un commento Noi ci sentiamo alla prossima Che sarà Credo domani No Lunedì Ragazzi Da lunedì Inizia una settimana Di video Bellissimi Ve lo dico Bellissimi Quindi aspettateli Grazie a tutti del supporto Arrivano a 25.000 like Ringrazio Ron, Deluxe e Gianco Bella Grazie a tutti Grazie a tutti